ciao amici oggi parliamo di una aurora 88 in edizione limitata edizione numerata gold pen l'aurora 88 a mare poi spiegheremo anche perché questa a che rica ricalca un po l'onda ma di un colore diverso da dal mare lo capirete senz'altro vedendola andiamo subito a vedere come è fatta vi ho lasciato tutto il pacchetto perché vedere come aurora cura lo scrigno delle proprie penne secondo me è molto bello è un insomma quando ci si avvicina delle edizioni limitate a delle edizioni numerate è anche molto piacevole avere un packaging ed una confezione che possa mettere in risalto tutto e ripagarci anche un pochettino da quella che è la fatica che abbiamo dovuto fare nel il sacrificio per portare la portare a casa a qualcuno non sarà sfuggito già di vedere che un pennino a 14 carati questo è un motivo è un motivo di preferenza secondo me perché aurora nelle edizioni speciali di solito consegna un pennino in oro a 18 carati però a mio avviso il vero pennino aurora quello che ci dà quella piacevolezza di scrittura quella morbidezza ma anche quel tipo di solcare la carta in modo tutto suo è il 14 carati questo poi in oro rosa ancora più bello andiamo subito a vedere la penna mentre ve la descrivo brevemente vi faccio anche scorrere alcune immagini di dettagli ravvicinati perché la penna merita davvero di essere vista un po in tutte in tutti i suoi aspetti nasce da un'idea del team gold pen ed è però realizzata da aurora l'idea era quella di legare appunto la doppia anima se vogliamo del del mare l'amore il mare le passioni ma anche la la quiete insomma è una penna che da una parte ricalca tutta la la linea che caratterizza da sempre l'aurora 88 però ci sono dei dettagli come per esempio i fregi su questa veretta che è in argento 925 e che richiama proprio le caratteristiche del sannio visto che gold pen a radici nel proprio in quel territorio quindi sia per il grifo che c'è ma anche per la lancia che era una lancia tipica del territorio sannita ma soprattutto vi dicevo il mare amare mare ecco la doppia passione la doppia anima ed è anche un po il modo per il quale abbiamo visto questa ha così differenziata e grande rispetto alla parola mare quindi si presta anche insomma questo giochetto di parole come sempre troviamo un corpo in auroloide che questa questa resina creata da aurora che veramente veramente molto bella non è celluloide ma non ha nulla che invidiare perché è realizzata così bene che su tutti i modelli più o meno di questa gamma è possibile ammirare tante sfaccettature tante colorazioni vi dicevo che il il colore come vedete ricalca quello del mare visto un pochettino più da vicino è più facile notare delle sfumature tra il verde scuro il blu quello profondo oppure il blu chiaro a seconda di come la incliniamo insomma tutte le tonalità del del mare la allora vi dicevo un'altra cosa che poi voi vedete nelle immagini il pennino è in oro rosa è uno secondo me una scelta tra le più eleganti a me piace molto loro rosa e quindi e quindi insomma mi trova d'accordo ma ancora più d'accordo mi trova proprio il fatto di aver scelto il pennino da 14 carati piuttosto che da 18 perché è molto secondo me trasmette di più anche quando quando si utilizza è molto più vicino alla carta molto più vicino alle sensazioni di scrittura che che riceviamo il caricamento a pistone neanche neanche ricordarlo è un aurora 88 con tutte le sue caratterizzazioni e le sue le sue bellezze perché comunque la penna che non ha bisogno di molte presentazioni la conosciamo tutti questo è un edizione ovviamente come tutte le edizioni speciali un'edizione limitata quindi con la numerazione io ho chiesto anche di avere il mio numero preferito e me lo sono me lo sono fatto arrivare appositamente il condotto in evanite anche questo un altro tratto diciamo differenziale rispetto ad altre penne e ci sono anche delle gradazioni molto interessanti i pennini ci sono tutte le misure classiche extra fine fine medio anche il broad ma c'è uno stab che quello che ho richiesto io sulla mia penna è anche un pennino a goccia che magari del quale ne parleremo un'altra volta ecco il primo video che sto girando stamattina ho già le mani ben inchiostrate quindi vuol dire che che sono in forma la veretta vi dicevo è in argento 925 ed è veramente molto bella un argento anticato come avete potuto vedere nei particolari molto ben riuscito con un logo che è diverso da quello aurora poi parlando un pochettino con con laura titolare l'anima di gold pen del reparto stilografico mi raccontava delle cose anche un po così curiose e degli aneddoti attorno ad aurora insomma una collaborazione dove diciamo c'è un po davide e golia perché il gigante senza dubbio e aurora però però insomma a vederle con messi insieme ad altre prodotti d'aurora questa è decisamente più un po' più curata sembra anche il logo è un pochettino più bello ma è sempre un parere mio personale la resina come vi ho detto da tante sfumature è ovviamente un omaggio al mare quindi ad un mare dove diciamo da appassionato si si a volte si fonde il mare con con l'azzurro è molto bello e non a caso ho caricato l'aurora amare con il blu mediterraneo della califoglio dell'artisan pesteller perché un trovo che innanzitutto scorra bene poi ne parliamo adesso nella prova nella prova dinamica della della penna stilografica ma ma soprattutto insomma è veramente il suo colore perché è un colore spensierato mi piace molto ricorda il mare le dimensioni di questa penna sono quelle classiche l'appoggio un attimo sono quelle classiche anzi vediamo se riesco anche con sono quelle classiche dell'aurora 88 niente devo ricorrere ai potenti mezzi di stilo grafica ecco così almeno riusciamo a vederla in tutta la sua bellezza quindi da chiusa misura circa 13 centimetri 13 centimetri e mezzo mentre invece arriva a 20 se la mettiamo con il cappuccio calzato il diametro è quello del cappuccio è un diametro un po più importante da 16 mm circa mentre invece quello massimo che troviamo sul corpo e da 14 mm come sempre come sempre la penna l'aurora 88 ha un impugnatura molto molto valida molto confortevole con questa svasatura finale che trattiene ferma un pochettino le dita la chiudo per evitare che l'inchiostro si secchi perché ora dobbiamo metterla alla prova beh insomma credo di avervi detto tutto è veramente una bella una bella penna poi nella confezione che ho ricevuto c'è anche un inno al mare alla passione diciamo che il lavoro di gol pen su questa penna lo trovo forse un pochettino più centrato rispetto ad altre edizioni cioè altre edizioni che ha curato personalmente questa mi è piaciuta l'ho presa apposta perché è una bella penna e poi ero curioso di provare lo stab aurora ok amici ci siamo allora non resta che fare la prova con la nostra aurora a mare come vi dicevo califoglio blu mediterraneo un inchiostro molto interessante ve l'ho recensito ma è interessante tutta la produzione di questo artigiano con dei colori dei colori inusuali dei colori che muovono potremmo io personalmente definirli come degli acquarelli rinforzati mi piacciono molto e infatti ne ho una discreta collezione proviamo subito fabriano e cocua una carta che mi piace molto credo che non abbia bisogno di presentazioni l'aurora come vi dicevo nella presentazione il cappuccio è un cappuccio che si svita ok il caricamento è pistone andiamo a vedere il pennino è uno stab stringo un pochettino in quadratura così ci stiamo dentro oppure edizione speciale come vogliamo dire il pennino è uno stab ora vi racconto tutto e sto anch'io cercando di percepire tutte le è inutile dire che è una bella penna è veramente una bella penna ci mancherebbe sì nella presentazione non vi ho parlato del prezzo il prezzo è quello allineato alle edizioni speciali di aurora qui c'è un valore aggiunto che non va dimenticato che è un'edizione speciale nell'edizione speciale perché è quella appunto interamente curata da gold pen il pennino è un bel pennino che cosa possiamo notare subito allora innanzitutto innanzitutto parliamo del pennino stab il pennino stab lo dico perché molti mi fanno queste domande ma che cos'è che differenza c'è tra un pennino italico un pennino tronco un pennino calligrafico corsivo sostanzialmente sostanzialmente la grande differenza che un pennino stab è un pennino che è un po arrotondato allora disegniamolo così come se lo vedessimo impresso sulla carta è un pochettino arrotondato dai lati questo permette di avere una scorrevolezza che decisamente è migliore di altre perché un pennino italico invece è molto più rigido nella parte diciamo terminale e questo è vero che dall'altra parte ci caratterizza la calligrafia perché essendo vedete questo è molto più rotondo e quindi scorre molto meglio però è anche vero che la variazione di tratto rispetto ad un pennino italico è un po meno evidente ma ne parliamo in un altro video la cosa che colpisce di questo pennino è la scorrevolezza senza dubbio la morbidezza anche tra l'altro non voglio farlo ma presenta anche una sorta di risposta un po elastica non è certamente flessibile non si può dire che il tratto vari chissà quanto però un minimo di risposta lo concede ora scrivo anche in piccolo perché qualcuno mi diceva ma usi sempre dei caratteri grandi beh non mi pare non mi pare vero in senso assoluto però faccio sempre le prove anche in piccolo ovviamente usare un pennino come questo cioè uno stub che più o meno potrebbe essere un 1.1 vedo 1.2 forse anche un po più abbondante di un millimetro 1.2 1.3 non è certamente l'ideale per scrivere in piccolo però struttura con caratteri piccoli però a dimostrazione di quanto sia valido il progetto il pennino aurora come vedete si può scrivere anche in piccolo usiamo lo stampatello minuscolo e lo si fa senza problemi però perché l'ho voluta con lo stub perché è quel tipo di pennino che mi permette di di appuntare di appuntare qualcosa che ho bisogno di vedere di vederlo in grande poi in merito alla scorrevolezza lo proviamo anche su altre carte mi piace così non ho mai avuto una penna importante di questo tipo uso molto le lami le twisby le online insomma tutte le le penne un pochettino che forse è facile trovare e usare poco in questo senso ma sono tutte penne molto belle molto ben realizzate ma certamente economiche non hanno non hanno la qualità di questa questo è veramente un piacere lo proviamo su un'altra carta di riferimento io sto spostando tutto poi mi ricordo sì lo proviamo su questo pigna vediamo come si comporta è proprio bella non è la non è la sua vocazione quella della calligrafia così però proviamo a vedere come la inclino un pochettino sì a differenza di dei pennini quelli italici o quelli tronchi diciamo come vi ho detto sagomati netti che sono più difficili se vogliamo da governare perché quando scriviamo dei tratti avversi alle fibre della carta tenderebbero anche un po' ad impuntarsi questa no questa scorre sempre e ovunque in qualsiasi direzione la andiamo a mettere ve lo faccio vedere tra l'altro provare anche con uno stab la vedudura no no ce la fa anche ma insomma vi volevo far vedere questo guardate che io vada in un verso questo è proprio uno una delle difficoltà maggiori per molti pennini che vada nell'altro guardate poi per così è assodato che scriva proviamo in punta per chi impugna la penna in punta lo sto scrivendo quasi verticale provo ad inclinarla a mettere il pennino per così in maniera angolata vediamo per la variazione di tratto non è agevole ma ci dà l'idea come vedete di quello che può fare un pennino quindi con un tratto sottile da questa parte un po' più largo qua però è uno stab quindi non gli si può chiedere questo perché si compra una penna così per avere una scorrevolezza il piacere di scrittura una penna pronta perché non dimentichiamo che c'è sempre in agguanto il rovescio della medaglia in ogni pennino calligrafico stab come volete si manifesta sempre purtroppo una tendenza bifasica di due fasi del pennino allora la prima è quella che serve a inchiostro nel momento in cui vado a prendere la pena e comincio a scrivere a volte questa prima fase è un po' scoperta non arriva subito l'inchiostro qui mi è capitato occasionalmente perché? perché il pennino è veramente fatto bene perché non arriva l'inchiostro vi dicevo in questa prima fase perché ne serve tanto ne serve tanto è uno stab è un po' come è un motore che consuma molta benzina tanto è vero che incontrerete dei problemi con alcune carte magari le più leggere problemi del tipo che c'è tanto inchiostro scorre tanto inchiostro e quindi la carta potrebbe anche imbarcarsi oppure rimanere un pochettino piegata andiamo a vedere nonostante questi miei ghirigori dietro compare davvero poco lo sto mettendo sul bianco però chiaramente si vede che ci sono dei segni posso scrivere tranquillamente però si vede che ci sono dei segni perché? perché l'inchiostro è tanto però vedete che false partenze non ne ha invece è una cosa che mi infastidisce di alcuni pennini stub di altre case è questa è il fatto di non essere sempre pronti il secondo punto di cui vi dicevo eccolo qua ho appena detto vedete che manca una parte del 2 manca questa parte l'altra fase è un po' quella che vi ho che vi ho detto l'altra fase è quella che quando però cominciamo a richiamare il flusso e il flusso arriva ed arriva tanto e allora tenete presente che anche la scelta dell'inchiostro deve essere quella di un inchiostro che assecondi da una parte le caratteristiche le richieste la richiesta di inchiostro che una penna di questo tipo presenta ma che non sia nemmeno eccessiva perché se no vi ritrovate con un annaffiatoio quello che mi colpisce di questo pennino per il quale vi dico è realizzato veramente bene ma lo vediamo sull'ultima carta no non è neanche l'ultima è questo qua un bel quadro pigna che ha una carta con una finitura un po' io intanto come vedete mi ero fatto un bel po' di prove anzi ve le faccio vedere anche con altri inchiostri è veramente molto è veramente molto bella molto piacevole da utilizzare è molto bella sì voglio dire mi piace molto vi dicevo su questa carta proviamola qua scrivo un po' più in grande stavolta a mare facciamo un po' di onde del mare guarda che meraviglia sembra proprio il suo questo questo inchiostro è proprio molto bello l'ho presa per questo per appuntare in stampatello maiuscolo delle cose in scrivania ho tante carte tante cose faccio un appunto voglio che si veda molto bene subito così una una analisi visiva guardate l'inchiostro come è diverso rispetto alla finitura delle carte che ho provato precedentemente guardate guardate come risulta qua su fabriano ancora nella sua interezza questo è un blocco un pochettino più economico e la saturazione si perde anche se vado a vedere sul pigna che ha una delle carte secondo me migliori fra tutte guardate come è molto più ed è più secco ovviamente perché è antecedente la mia scrittura guardate come è più bello quindi sempre tante carte da provare perché vale la pena misurare un inchiostro o le sue caratteristiche in diversi momenti il pennino è uno stabile lo scrivo così perché mi piace usare questa penna in tutte le sue forme in piccolo certo stampa terra minuscolo perché no e poi è molto bella anche la caratteristica vi dicevo mi piace dello stab questo tratto abbastanza sottile perché non è sottilissimo non è un pennino italico in senso orizzontale ma molto più presente molto più massiccio nella parte invece qui sto dando un pochettino più di pressione quando faccio queste anse come vedete c'è una differenza infine lo provo su una carta una carta comune una una navigator da 90 grammi vedo se sono inquadrato certo ecco vedete quando si chiede si chiede la benzina nelle partenze è uno dei problemi che ho avuto anche su una Montblanc su una 149 col pennino stab che dopo una settimana ho rientrato al rivenditore abbiamo cambiato il pennino perché purtroppo è un problema comune così come è comune questi pennini qua ogni volta che andiamo a scrivere velocemente quindi perdonate la calligrafia allora calligrafia sacrificata eh non c'è verso di metterlo in difficoltà però con molti pennini quando si scrive velocemente rimangono un po' secco guardate l'alimentatore inepanente guarda per metterlo in difficoltà dove devo guardate ecco questo è il motivo per il quale ho scelto Aurora perché è un pennino veramente appunto se vi piace scrivere velocemente dovete appuntare oppure non velocemente ma scrivere in in scioltezza devo scrivere delle cose voglio un appunto sono differenza oppure voglio appuntare una penna che svito e scrive ecco questa è la risposta è veramente è veramente molto bella vi ho detto che avevo fatto anche altre prove eccole qua per esempio si comporta molto bene con con questo inchiostro questo è un un visconti un visconti su una carta comune molto bello molto pieno guardate il tratto molto bello su una carta molto invece con una finitura più abrasiva perché questa è una finitura meno liscia proprio dedicata evidentemente ad altro tipo di scrittura non alla nostra stilografica guardate che bella molto bella anche qua mi è piaciuto molto il Graf von Faber Castel Royal Blue perché la rende molto scorrevole anche l'Hiroshizuku ho provato e uno che però eccolo qua scusate questo è il Faber Castel mi è piaciuto molto perché aumenta un pochettino la variazione di tratto lo potete vedere qua ogni inchiostro ha dalla sua delle caratteristiche se no insomma ce ne sarebbe uno e ci accontenteremo di questo le caratteristiche che vengono messe in risalto da questo tipo di inchiostro dal Graf von Faber Castel è quello proprio di dare un tratto innanzitutto molta scorrevolezza perché guardate questi sono caratteri da due centimetri ed è veramente molto valido e mi è piaciuto molto anche il Waterman Brown il classico Waterman Brown inchiostro che non costa come inchiostri più blasonati ma lo rende scorrevole bello piacevole quindi è una penna che come avete potuto vedere un po' in questo radar di inchiostri si trova bene un po' con tutto la consiglio è cari amici facile dire sì certo non è una penna per tutti i giorni non è una penna forse per tutti perché è una penna costosa però è anche la penna che insomma uno decide di regalarsi e se la tiene e se la gusta per tutta la vita anche con la consapevolezza che è un'edizione speciale un'edizione limitata c'è un numero dietro che vi ricorda che ne sono state prodotte 100 una se la tiene aurora una se la tiene gold pen perché insomma io ho provato a chiedere alla Laura se mi dava proprio il numero uno ma non c'è stato verso se l'è tenuta lei giustamente però la bellezza di poter insomma avere un pezzo che sapete che è quasi unico non è un pezzo artigianale ma di una produzione semi artigianale vi ripaga anche insomma dello sforzo che avete fatto per l'acquisto io sono andato forse un po' lungo ma le cose da dire sono tante soprattutto quando si trova una penna molto bella come questa a voi tutti grazie vi aspetto ai prossimi video di Stilografica Art ciao ciao